Fai più buio? Sì. Ecco, così. Adesso esci fuori nel corridoio e dopo un po' rientra come se sbagliassi camera e trovassi uno sconosciuto. Carino, questo non l'abbiamo mai fatto. Ferma così, fatti un po' vedere. No, no, ci vuole un trucco più... Più come? Più da porca. Vieni qua. Dammi la matita. Bello questo lampadario. No, perché voglio prenderlo per casa mia. Come si chiama quest'albergo? Della ferrovia. Ah, voglio scriverlo a mio marito, così mi manda subito un espresso. Vedessi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere. Sì, sì, ma se non stai ferma, non... Fai la faccia da porca. Sguì, esci fuori nel corridoio. Ah, ma non è una parte che devo fare. Sì. Mi hai presa per una delle tue attrici. Vai, vai fuori. Perché credi che non sarei capace di fare come loro? Invece no, sai. Non mi piacerebbe mica fare con la vita di... A me piace starmene a casa. Su, esci, che io dormo. Shhh. Di un po'. Se la facessi sul serio questa cosa, saresti geloso? Ma perché? La faresti sul serio? Mmh. Chi lo sa? Che voleva, che ti ha detto? C'era la padrona di casa che voleva darmi l'acqua minerale. Vieni qui. Vieni. Apri l'enzuolo. Guido. Ma mi vuoi anche per... Ma sì. Grazie a tutti.